Buongiorno agli amici di Bologna in lettere che ringrazio per l'invito. Sono Fabrizio Bregoli e vi leggerò alcune poesie tratte dalle mie ultime pubblicazioni. Le case non ci accolgono, rinnegano i passi che le persero, le mani che vincisero i muri tacca a tacca con l'irruento crescere dei figli e di volti ammansiti alle finestre da un alfabeto minimo di luce. Trattengono di noi la sottrazione, l'ambiguo marchio della nostra diaspora. Preservano la nudità dei chiodi, sagome annerite di quadri e mobili, relitti di giocattoli. Così dimenticano i corpi, il loro oltraggio. Heisenberg. L'imbroglio è sempre la luce, quel suo scalfire i corpi, sbozzarli dal nero, ordinarne regole, spazi, travolgerli nel loro buio esatto con la sua lama buona, obbligare i volti a intridersi. Illuderli che siano conoscibili a misura di un noi inesplorato. Fingere emendabile la frattura, l'indeterminazione sanata. Debrogli. Nell'attimo che rende indistinguibile materia ed onda, quantità di moto e sua frequenza, in quella fenditura incongrua, in quella marca impresidiata, lì tentare l'unione, congiungere valva a valva le mani che vi hanno smarrito un mare, riannodare voce a respiro. E noi la lingua della divisione, dialetto incendiario dove si parla un unico silenzio.